Mara Venier, l'ultimo dell'anno, lo passa con Christian De Siga e Carlo Verdone. Con Christian De Siga e Carlo Verdone il divertimento è assicurato. Pronta, vestita, per andare a casa di amici. Buon anno a tutti. Scusa, ma è che ti posso guardare un momento? Salute a zia, salute a zia, che festa, che festa, che festa. Scusa, ma è che ti posso guardare un momento? Buon anno, buon anno a tutti. Zia Mara, auguri anche a te. Buon anno, buon 2022.